La storia che vi racconterò oggi è una storia che doveva rivoluzionare il mondo dei personal computer Un sistema ingegnoso e innovativo per tenere migliaia di byte in un palmo di mano Stiamo parlando dei micro drive, dei micro hard disk che ai tempi avevano delle dimensioni veramente enormi Ma ora partiamo con la storia L'idea di avere dei dati a portate in mano parte nel 1983 da un'idea della Sinclair Nota marca anche per dei personal computer ergonomici e molto piccoli Ai tempi gli hard disk avevano un notevole peso e dimensione E ovviamente anche i megabyte che si potevano immagazzinare all'interno erano veramente pochi Infatti principalmente per avere un computer, cioè più che altro un hard disk da 10 megabyte Ai tempi costavano quasi 4.000 dollari e per i tempi erano veramente tanti E detto sinceramente per chi ce li aveva era soprannominato riccone perché solo loro potevano comprarli Ma la Sinclair vedeva già le cose molto molto in avanti Infatti creò gli ZX micro drive Delle sorte di micro dischetti su unità magnetica che potevano immagazzinare fino a 85 kilobyte Infatti se ci pensate bene un byte è praticamente una lettera, corrisponde a una lettera Ora un kilobyte è composto da mille byte quindi sono mille lettere e 85 kilobyte ai tempi erano tantissimi Perché potevamo inserirci veramente tantissime informazioni Ma purtroppo il sistema subito o quasi subito fallì Perché in pratica i nastri magnetici erano molto vulnerabili alle smagnetizzazioni Questo in pochissimi attimi Quindi in conseguenza prima del fallimento di queste cassette Cominciarono ad andare sul mercato a un prezzo veramente stracciato fino a che sparire nel nulla Nel 1992 l'HP decise di fare uscire una nuova rivoluzione La rivoluzione dei micro dischi, dei micro hard disk Infatti uscirono nel 1992 un disco da 20 megabyte e un disco da 40 megabyte Erano due tagli veramente inferiori che principalmente dovevano essere tutti predisposti Per andare all'interno di laptop piuttosto che di tablet preistorici Però purtroppo non ebbe successo anche perché ai tempi nel 1992 Già c'erano hard disk nettamente migliori Velocità e prestazioni maggiori e non inferiori come questi dischi Questi dischi che principalmente non erano per nulla veloci Sei anni dopo, più nel preciso nel 1998 L'IBM fece uscire due micro disk Due micro disk dal taglio di 170 megabyte e 340 megabyte Con una velocità di trasferimento di 30 e 50 mega al secondo Che era veramente notevole Soprattutto perché hanno fatto un passo più lungo della gamba Che però ha funzionato Infatti inserirono al posto del solito attacco Pata, IDE O comunque con gli attacchi che andavano solo sui computer Loro avevano visto molto di più E infatti inserirono l'attacco compact flash Conosciuto anche oggi per la maggior parte delle macchine fotografiche Che ci sono professionali e in commercio Di conseguenza mettendo l'attacco compact flash Si poteva immagazzinare attraverso macchine fotografiche dei tempi O videocamera ai tempi che cominciavano ad uscire con chef card Potevano immagazzinare migliaia e migliaia di dati E ovviamente qui è la prima volta che succede che i compact flash hanno successo Perché ai tempi, ovviamente nel 1998 C'erano solo memorie da 16, 32, 64 e 128 mega E quindi in conseguenza avevano una notevole memorizzazione Ma IBM fece un altro passo più lungo della gamba Infatti creò le memorie da 512 e 1 giga Ma Itachi poi prese la palla al balzo Infatti nel 2003 commercializzò la sua micro drive da 2 gigabyte Ovviamente IBM aveva lasciato la palla a loro Infatti ogni anno la Itachi dal 2003 fino al 2006 Quindi nel 2003 fece uscire la 2 giga Nel 2004 fece uscire la 4 giga Nel 2005 la 6 giga E per ultimo nel 2006 la 8 giga E di conseguenza il progetto poi fallì Perché ovviamente nei tempi dell'Itachi Che rivoluzionava sempre più queste chiavette Anzi più che chiavette Queste sorta di hard disk compact flash fisici Ovviamente con l'avvento delle chiavette Da 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga e così via Che costavano molto meno Erano più affidabili Perché ovviamente cadendo una chiavetta non si rompe Ma questi disk appena toccano anche solo un po' di peso Si rompevano Lasciò anche loro la palla La palla ha questa nuova rivoluzione delle chiavette E qui nasce un secondo anche l'archiviazione fisica A traverso l'utilizzo di microchip Però come avrete capito Principalmente questo non fu proprio un progetto che fallì Fallì all'inizio Ma poi con un po' di ripercorsioni Comunque era stato sempre più rivisto Rivoluzionato Migliorato Furono riusciti a portare al termine Per quasi 20 anni Circa 20 anni Una rivoluzione che sarebbe stata utilizzata fino ad oggi Però il problema è che appunto con l'avvento delle nuove tecnologie Fu lasciata a marcire Infatti se avrete anche notato Questa storia è parallela anche alle mini dv Come saprete ancora adesso Vengono vendute le mini dv Le cassette mini dv Anche quelle lì sono unità a nastro Quindi di conseguenza anche loro incominciano a sparire piano piano Perché con l'avvento delle memorie e tutto Si ha una prestazione maggiore Ma soprattutto qualità Cosa che non c'è sempre con un nastro magnetico Ma comunque questa era la puntata sui microdisc Spero che il video vi sia piaciuto E niente Ci vediamo a una prossima puntata Grazie ancora